Simboli degli antichi egizi e pesatura del cuore. Uno dei più famosi simboli egizi rappresenta l'occhio di Horus, spesso confuso con quello di Ra, molto simile ma dal significato differente. Si riteneva infatti che il destro appartenesse a Ra e fosse il sole. Mentre il sinistro a Horus e fosse la luna. Horus perse il suo occhio durante un combattimento contro Seth e solo grazie alla magia del saggio dio Thoth riuscì a tornare integro. Chiamato con il nome di chiave della vita aveva a che fare con il mistero appunto della vita e dell'Ankh. Mistero della vita nel senso di vita eterna. Infatti veniva posato sulla fronte del defunto per assicurargli un sicuro passaggio nell'aldilà. Infatti era la chiave che apriva le porte del tempo. Veniva utilizzato come amuleto per ottenere energia vitale e salute. Gli scettri del faraone. Di sicuro avrete visto spesso il faraone con le braccia incrociate con in mano due strane armi. Una uncinata e l'altra simile ad una frusta con varie code. Rappresentano il potere e l'autorità del re dei due regni. Divennero simboli di potere perché il faraone prima di tutto aveva il compito di portare benessere alle sue genti facendo sì che non mancasse mai il cibo. L'ureo era il serpente indossato dal faraone. Come un diadema. E si diceva difendesse il suo diritto di governare. Era infatti un cobra dal cappuccio aperto. Pronto ad attaccare chiunque si opponesse alla giustizia. Questo serpente però non proteggeva solo il faraone, ma piuttosto il regno. Quando infatti vi era un faraone indegno di tale titolo, si diceva che l'ureo gli si sarebbe rivoltato contro. Lo scarabbeo. Gli egizi erano stupiti di vedere gli scarabbei nascere da cumuli di sterco e perciò credevano che questi fossero in grado di autocrearsi dal nulla. Non sapevano che in realtà le uova erano nascoste al loro interno. Sugli amuleti lo scarabbeo era raffigurato molto spesso. Di solito era messo tra le bende della mummia, vicino al cuore, perché doveva portare fortuna affinché il cuore non risultasse più pesante della piuma di Maat nel momento del giudizio sulla bilancia di Anubi. Ed eccoci alla pesatura del cuore. In questo libro dei morti è raffigurato il defunto che si presenta di fronte a Osiride, dio dell'altilà. Ed è pronto per un rito, cioè vedere se si è comportato degnamente in vita per poter entrare nel regno dei morti. In questa scena vediamo quattro fasi del processo. In alto, qui, il defunto che parla agli dei, questi, e racconta cosa ha fatto di giusto e di sbagliato. Poi c'è il viaggio verso la pesatura. Qui la pesatura con la bilancia dedicata alla dea Maat in cui viene pesato il cuore insieme alla piuma di Maat. Qui c'è il cuore. Qui c'è la piuma. Se il cuore è più pesante della piuma significa che il defunto non si è comportato bene in vita. Il cuore è troppo pesante e quindi deve essere sbranato dalla dea Amnit. Questa qui. In questo caso invece, vedete, la piuma è più pesante del suo cuore. E quindi, dopo che il dio della scrittura, eccolo qua, ha scritto il verbale finale, eccoci pronti ad entrare nell'aldilà. Grazie. Grazie. Grazie.